Buongiorno giganauti, Teto in questo video vi parlerà di offerte telefoniche per aiutarvi a trovare la più adatta alle vostre esigenze. Iscriviti subito sul canale Teto Tech. Buona visione. Nel giugno 2018 Vodafone partorisce e nasce un bel bambino, un bel bambino chiamato Omobile. Probabilmente se fosse stata una femmina la verrebbe l'ho chiamata Amobile, non lo so. Comunque a parte le cresinate andiamo a vedere insomma questo gestore virtuale sotto copertura logicamente Vodafone, tutti i suoi pregi e difetti. Ma prima di dire, di parlare di questo gestore, qualche aggiornamento riguardo il video precedente, quello pregi e difetti di Iliad. E aggiungo qualche cosina perché mi è stato suggerito qualche cosina da voi, poi qualcosa mi è venuto in mente a me. Come ad esempio non ha la eSIM. Questo secondo me è molto importante, poi per un gestore fisico, che tutti i gestori fisici ce l'hanno, Iliad non ha le SIM. Poi mi viene suggerito che ha la segreteria telefonica già compresa, quindi è gratuita, altri gestori magari ne ha pagamento. Una cosa che secondo me è molto importante è la possibilità di fare la portabilità in un secondo momento. Non tutti i gestori lo fanno, ce ne sono alcuni, ma altri non lo possono fare. E questo è molto importante, quindi potete acquistare la SIM di Amobile, provarla e poi se vedete che va bene, potete fare la richiesta già direttamente all'interno dell'account, quindi nell'area personale. Poi una cosa che dice Carmelo, ad esempio, un difetto di Iliad è il non poter disattivare la segreteria telefonica senza che si disattivi anche il servizio mi richiami. Questi sono due servizi che dovrebbero essere separati. Altra cosa molto importante è la possibilità di utilizzare il router. È possibile quindi acquistare una SIM telefonica e poterla mettere nel router? No, ni, ni, si, no. In teoria no, ci sono scritte queste cose qui, bene o male tutti i gestori, tranne uno, che loro proprio lo specificano e dicono si si la puoi tranquillamente utilizzare anche nel router e questo lo scoprirete più avanti quando parlerò di quel gestore lì chi è. E comunque, sì, viene utilizzata nel router anche se in teoria non si potrebbe. Sono fatti esclusamente per telefonare, navigare, insomma, utilizzandolo con lo smartphone. Però lo si fa, lo si fa finché il gestore non vi dice niente, come ad esempio ci sono stati dei casi che sono stati bloccati da operatori, finché non dicono niente c'è chi lo utilizza anche tuttora dopo tanti anni e nessuno, insomma, non ha avuto problemi. Bene, adesso passiamo a O-Mobile. Andiamo a vedere, prima di tutto, le sue offerte. Queste qui abbiamo la 200GB, 9,99€, naturalmente questo è in esclusivamente importabilità. Poi ci sono queste altre offerte, sempre in portabilità, 100GB, 6,99€, 150GB, 7,99€, oppure chi attiva un nuovo numero abbiamo 50GB, 6,99€, 150GB, 8,99€. E poi vedete per clienti Team, Vodafone, Win3 e Veri Mobile abbiamo queste da 50GB, 11,99€, 150GB, 13,99€. Partiamo con E-SIM, no, non ce l'ha, ce l'ha mamma Vodafone, papà Vodafone, insomma, lui ce l'ha, l'E-SIM, O-Mobile non ancora. La strozzatura, ecco qui, la strozzatura è di 30 megabit al secondo si è in download e in upload. Ci sono state qualche offerta dove avevamo messo anche 60 megabit al secondo e poi è scappato fuori anche questa possibilità di pagare 1,99€ al mese in più per raddoppiare la velocità, quindi da 30 a passare a 60 megabit al secondo di velocità. Secondo me non ha senso, a parte che con 30 megabit si viaggia bene, si può guardare anche film in stream. Insomma, diciamo che siamo nella normalità, diciamo il minimo essenziale sono questi 30 megabit e poi, logicamente, dipende dal proprio utilizzo, insomma. Allora, che servizi offre O-Mobile? Sono elencati qua. Quindi, ah, il riparti quando finisci i giga, la navigazione in hotspot, l'avviso di chiamata, ho chiamato e il trasferimento di chiamata. Ma attenzione con il riparti. Qui vi ho fatto vedere, viene indicato riparti, ma questa è l'offerta, ve la faccio vedere, è quella importabilità con 100 giga o 150 giga. Ecco, per capire se hai il riparti, andate all'interno dell'offerta e dovete leggere questa cosa qui, perché, ad esempio, se noi andiamo nell'offerta, questa qui, da 200 giga, e scorrete in basso, come potete notare, non c'è scritto riparti. Quindi, non tutte le offerte lo offrono, solo alcune. Quindi, dateci un'occhiata per capire se, eventualmente, l'offerta che sceglierete o che scegliete ha la possibilità di fare, insomma, questa funzione. Il ping, il ping, direi che è buono. Almeno, io parlo sempre della mia esperienza, quindi cose che ho provato. Il ping, io ho viaggiato sempre dai 20 ai 30 millisecondi. Quindi, direi, ottimo. Invece, riguardo la durata dell'offerta. Sappiamo, vi ho già specificato, durata dell'offerta e durata della sim. Sono due cose differenti. La durata dell'offerta vuol dire che io non ricarico la mensilità. Cosa succede alla sim? Con o mobile, anche lui, fortunatamente, non succede assolutamente nulla. Non potete, naturalmente, navigare, non potete telefonare o inviare sms, però li potete riceverli. Apro una parentesi, giusto, così, riguardo il video dei pregi e difetti di Iliad. Ho specificato, ad esempio, questa cosa che, sì, Iliad può andare a consumo, ma attenzione, perché, infatti, avevo fatto anche un video tanto tempo fa, se finisce l'offerta e non rinnovate, ricordatevi di togliere la connessione dati, perché, se no, andrete a consumo anche con la navigazione. E lì, se magna tanti soldini, se ce li avete, logicamente, se non avete credito all'interno, non succede niente. Però a me, io feci un video tanto tempo fa, e proprio mi era capitato questa cosa, mi si era disattivato il wifi, non so perché, è andato con i dati, vabbè, a me aveva mangiato solo 90 centesimi, magari aveva fatto l'aggiornamento, non era quello il problema, era solo per farsi, insomma, di avvisare i clienti, insomma, di fare attenzione a questa cosa. Quindi, con Iliad, attenzione, se non rinnovate l'offerta, disattivate la connessione dati, perché se avete del credito ve lo mangia tutto. E l'offerta rimane attiva, per tutta la durata, la durata della sim, quanto? Qui a me è capitato 11 mesi, cioè, passati 11 mesi che non ricaricavo il cellulare, mi è arrivato l'SMS e mi aveva bloccato, quindi diceva, devi ricaricare, perché se no, noi e la sim, ciao e grazie. Quindi si rinnovava, non erano 12 mesi, ma un mese, prima di solito fanno 12 più 1, qui invece è 11 mesi, insomma, è capitata questa cosa con Homemobile. Abbiamo capito che l'offerta rimane finché è attiva la sim. Io posso ricaricarla dopo 5, 6, 7 mesi, non succede niente, potrò solo ricevere chiamate SMS, come ho già detto, e una volta che ricarico riparte l'offerta da capo. Quindi capite bene che è una sim che non può andare a consumo. Anche qui, come Iliad, minuti limitati, SMS limitati, sappiamo che non è così, ma anche qui, ripeto, come Iliad non viene specificato, quindi non c'è il quantitativo giornaliero o mensile di quanti ne posso utilizzare. Non ho avuto almeno commenti, insomma, segnalazioni, dove qualcuno era stato bloccato, perché magari aveva consumato troppi minuti, troppe SMS, insomma, almeno non mi è stato detto niente da voi. Quindi anche qua, sempre si intende un uso corretto. Ha un'app, sì, ed è fatta anche molto molto bene, perché poi tutti gli altri gestori l'hanno scopiazzato molto. Il 5G l'abbiamo detto che non ce l'ha, e poi la portabilità in un secondo momento, ecco, non mi ricordo. Io avevo la sim, naturalmente mi si è disattivato, ho tolto tutto, sinceramente non mi ricordo se all'interno, magari, sapete, vengono aggiornate, si può, magari, aggiungono dei servizi, e se non lo si vede, non lo si sa. Quindi sta a voi, lasciate nel commento, se qualcuno se lo ricorda, se si può fare la portabilità in un secondo momento, la lasci sotto nei commenti. L'assistenza, l'assistenza, almeno da quello che ho sempre saputo, almeno quando avevo anche Vodafone, insomma, era sempre stata tra le migliori, quella della Vodafone come assistenza. Poi dopo, ripeto, dipende sempre dai casi, perché ho fatto anche dei video che c'erano delle assistenze Vodafone che erano una roba assurda. Comunque, beh, dipende sempre da chi incontriamo. È un po' come quando andiamo anche in un negozio, andiamo ad acquistare un prodotto, possiamo trovare il commesso che è preparato e che ha voglia di lavorare, e c'è quello che proprio non gliene può fregare di meno, magari vi tratta un po' così alla cacchio di cane. Bene, una domanda che mi potreste fare, non so, la priorità riguardo, diciamo, io ho poste mobile, sapete che poste mobile è copertura Vodafone, e le priorità, ecco, se dovessi scegliere, è una cosa, secondo me, normalissima, che su un discorso di copertura, di priorità, se avessi poste mobile, e avessi home mobile, Vodafone, quindi mamma, papà Vodafone, a chi darebbe la priorità? Insomma, vi rispondete anche voi, no? Se aveste un figlio, c'è il vostro figlio, e c'è l'amico, la priorità naturalmente la darete al vostro figlio. E qui è, diciamo, la stessa identica cosa. Quindi, se ci dovesse essere un problema, a chi devo dare più banda in quel momento, perché magari c'è una grossa saturazione, sicuramente Vodafone la dà a home mobile, rispetto a un altro virtuale, sempre sotto copertura, Vodafone. Io, sinceramente, mi sono trovato bene anche con home mobile, nulla da dire. La banda si è strozzata, però, per un uso quotidiano, come la maggior parte di noi lo fa, non c'è assolutamente problema, si può navigare tranquillamente, si può guardare i film in stream, si può fare tante e tante cose. Ok, giunti a questo punto, attendo i vostri commenti, quindi vediamo un po' cosa mi sono dimenticato, cosa c'è ancora di home mobile, che non l'ho detto. Bene, grazie per stare qui, fino alla fine del video, noi ci vediamo prossimamente con un altro, pregi e difetti, di un altro gestore telefonico. Di solito saluto, noi vecchi iscritti, solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao, ciao da Teto. All I want All I want Me and You I'll keep back It's been so long It's been so long I'll keep it